Il brianzolo Luca Delpero si aggiudica la terza edizione della Misurina Winter Run. Sapevo che era una gara veloce, sapevo che c'erano due salite, ho cercato di andar via subito all'inizio della prima. Il percorso è bellissimo, mi è piaciuto veramente tanto, segnato nei posti giusti, organizzazione presente dappertutto, quindi pollice in su. Oltre 200 i partecipanti tra la gara competitiva e la Family Run, in una giornata baciata dal sole ma decisamente fredda, con 14 gradi sotto zero alla partenza di Misurina. Vittoria Lombarda anche in campo femminile con la 22enne valtellinese Gaia Bertolini, già campionessa italiana juniors di corse in montagna a Staffetta. Ho cercato di tenere duro fino all'ultimo, vedevo il rifugio, ho detto dai dai stringiamo i denti che poi mi dicevano che era tutta discesa, anche se poi alla fine c'è stato ancora un po' di piano, però è stata davvero bella. Grazie al tempo che ci ha aiutati è stata davvero una bellissima manifestazione caratterizzata da un livello tecnico altissimo. Le condizioni meteo ci hanno permesso di realizzare l'intera gara su fondo innevato, mentre le altre gare del circuito si sono svolte a quote più basse, facendo registrare in alcune aree scarsità di neve sul tracciato. Sottolinea Ivano Molin, presidente di Cadini Promotion, società organizzatrice dell'evento in sinergia con il comune di Auronzo di Cadore.